Si svolgerà venerdì 7 dicembre alle 18 nella Sala Talenti a Scoppito nel centro commerciale Pegaso un interessante convegno patrocinato dal Comune di Scoppito. Si affronterà durante il convegno il tema del dopoguerra ma da diversi punti di vista. Ci sarà un inquadramento del periodo storico che va dalla battaglia di Vittorio Veneto sino all'avvento del fascismo. Verranno trattati anche i risvolti politici di un dopoguerra che è stato decisamente difficile per l'Italia e per l'Europa e più in generale verrà pure illustrato come il tema della prima guerra mondiale sia stato rappresentato a livello di teatro. Interverranno il sindaco di Scoppito Marco Giusti, l'assessore alle politiche culturali Francesca Rossilli, i professori Carlo Fonsi e Fabrizio Pompei. Il titolo del convegno è L'eredità della Grande Guerra ed è stato organizzato dall'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza dell'Italia contemporanea.